Grazie Presidente. Io devo dire che sono molto preoccupato del fatto che si sta continuamente squalificando la democrazia all'interno di questo Consiglio regionale. È un Consiglio che sta lavorando a regime ridotto. Si doveva fare un Consiglio regionale il 4 agosto e è stato spostato. Si doveva fare un Consiglio regionale di martedì e è stato spostato al mercoledì. È stato tutto organizzato perché non si discutesse delle mozioni sul rifiuti zero e sulla scuola allo scorso Consiglio e si continua a tappare la voce e le ali della democrazia se come dal regolamento si presentano delle mozioni. Ed è molto evidente questo perché una mozione era su Scarlino, su un inceneritore, su un problema enorme da questo punto di vista in termini di avvelenamento delle popolazioni e il PD, voi altri, vi rifiutate di parlarne. Credo sia una cosa gravissima e vi voglio ricordare che la democrazia non è solo il potere della maggioranza, è anche riconoscere alla minoranza valore e questa cosa non siete capaci di farla. È l'ora di farla finita secondo me con questo atteggiamento arrogante e aggressivo.